Lo spread sale, a Piazza Affari si festeggia la stagione delle trimestrali ma sullo sfondo rimane la questione più importante. Alzerà i tassi di interesse la Banca Centrale Europea nel 2022? Vediamo il punto di vista dei protagonisti di House of Trading. La prima operazione è una carta rossa, quindi un'operazione short e andiamo su uno dei mercati a me preferiti per il trading, ovvero siamo sul Forex, cambio euro-dollaro. Un cambio euro-dollaro che è tornato in area 1,15, forse il vero spartiacqua, anche psicologico mi viene da dire vedendo le quotazioni Luca. Guarda dal punto di vista del cot report, quindi di come gli investitori istituzionali si stanno muovendo su questo cambio, con buone probabilità nelle prossime settimane barra mesi avremo un rialzo su questo cambio. Detto questo però siccome c'è stato proprio pochi giorni fa una bella sparata dal livello di 1,13 fino al livello di 1,14 e qualcosa dove siamo adesso, mi aspetto un ritracciamento. Quindi la mia operazione short vuole essere un'operazione di breve termine per sfruttare quello che tecnicamente viene chiamato pullback verso la zona di rottura appunto di questa trendline. Tradotto per gli amici a casa, Luca sta dicendo Ok, io nel medio termine inizierò a fare strategie di stampo rialzista sfruttando i ribassi delle quotazioni dell'euro-dollaro, virgola. Nell'immediato per un trading di breve con un rischio rendimento interessante sfrutto, vista la vicinanza anche con le resistenze, l'opportunità per andare short e magari riesco a prendere una parte di movimento e poi riesco a reinvestire invece sul trend primario. Per quanto riguarda la direzione ce l'hai detta, la motivazione anche a questo punto andiamo a vedere proprio i livelli che hai messo in campo. Abbiamo un punto di ingresso a 1,1440 quindi siamo in questo momento a 14,33 quindi davvero molto vicini, uno stop loss molto stretto a 1,1490 e un target appunto a 1,1330 che significa compreso di spread e spese varie un centinaio di pips che comunque è una buona operazione. Assolutamente sì, interessante come rapporto rischio rendimento, anche qui qual è la vostra visione sull'euro-dollaro? Chiedo a voi a casa, considerando anche che davvero il cambio tra divisa unica europea e quello americano è una sorta di termometro anche sullo stato di salute delle due economie, ma soprattutto è lo strumento più liquido al mondo. Allora Luca abbiamo segnato la prima strategia, a questo punto andiamo avanti, passiamo alla seconda operazione che metti sul mercato in questa sfida di House of Trading. Seconda operazione è una carta verde, quindi un'operazione a rialzo, torniamo in Italia perché per la prima volta dopo tanto tempo voglio provare un'operazione a rialzo sul nostro indice domestico, siamo sul Fuzzimib. Una strategia che va nella stessa direzione di quella proposta da Filippo Giannini, anche lui un long sul Fuzzimib, quali sono le tue motivazioni Luca e ovviamente anche i livelli? Guarda, questa operazione nasce da uno spunto assolutamente tecnico, quindi abbiamo avuto in area 26.200 punti un ottimo doppio minimo con tanto di divergenza sugli oscillatori dell'analisi tecnica, quindi credo che questo rialzo in corso nelle ultime ore possa durare e continuare ancora per un po'. Aspetterei appunto un ritracciamento sul livello di 26.680, uno stop loss anche qui molto stretto a 26.430 con un obiettivo a rialzo di 26.930. Quindi diciamo che vado a puntare un pochettino su un movimento anche abbastanza laterale nelle prossime ore, laterale rialzista diciamo. Una domanda operativa visto che hai parlato di tecnica, quando abbiamo un trend come è stato quello delle ultime settimane a Milano che non è stato prettamente rialzista, perché comunque pur rimanendo in prossimità dei massimi abbiamo visto una sorta di consolidamento, discesa, consolidamento dei rialzi maturati. Ecco, vedevamo sul grafico che mostravamo proprio quel doppio minimo di cui ci parlavi, da un punto di vista operativo Luca, in questi casi quando si ha prima avuto una discisa si entra direttamente alla rottura, come poteva essere in questo caso una generazione sopra delle resistenze statiche o si tende il pullback? Guarda, per il mio stile operativo io opero sempre con gli ordini pendenti, quindi con gli ordini al limite, non mi piace mai, diciamo se voglio andare a rialzo preferisco di fatto pagare meno qualcosa che sto comprando, quindi cerco sempre di entrare sul pullback. Perfetto, allora grazie anche per averci dato questa nota operativa che spero che possa tornare utile agli amici che ci seguono, a questo punto proseguiamo e già due strategie sono volate via, alziamo il velo sulla terza operazione che ci proponi questa settimana. La terza carta torna ad essere una carta rossa, sempre su un indice, una bella operazione short sul DAX, anche per controbilanciare in qualche modo appunto il rialzo fatto con la carta precedente, quindi short sull'indice tedesco DAX. Mi sorprendi veramente perché si dice che quando Wall Street ha raffreddore nel resto del mondo viene a polmonite, ma poi sappiamo benissimo che anche prende il sole sui mercati finanziari se la Germania non va forte, è difficile che gli altri indici in Europa vadano bene, soprattutto mi sorprende questo trade-off long d'Italia, short di Germania, anche con il rialzo dello spread che stiamo registrando alla chitichella in questi giorni. Cosa ti porta a privilegiare l'Italia alla Germania? Ma guarda, in questo momento è una visione abbastanza macroeconomica barra politica, c'è tanta tensione sul confine Russia-Ucraina e tante tensioni sono chiaramente dovute anche al gas e alle forniture di materie prime. Quindi vedo un rischio per la Germania di essere in mezzo tra due fuochi, ovvero tra appunto la Russia e gli Stati Uniti, che di fatto si stanno contendendo il mercato delle materie prime. Troviamo la Germania appunto come terzo incomodo che con la costruzione di Nord Stream 2 sta cercando di farsi amici un po' tutti, compresi i russi. Potrebbe essere la nazione che ne paga le conseguenze, quindi credo che quantomeno nel breve termine potrebbe quantomeno performare meglio rispetto ad un paese come l'Italia, dove nel mentre è stato diciamo riconfermato anche Draghi, il capo dello Stato, quindi soprattutto dal punto di vista bancario, che è il diciamo il fondamento del nostro listino, dovrebbe esserci comunque un po' di continuità da questo punto di vista. Quindi in verità questa operazione short sul DAX è da vedere più come un'operazione di spread trading più che altro. È interessante questa chiave di lettura ed effettivamente non avevo nemmeno riflettuto su quella che è stata una delle direttrici della guida di Angela Merkel della Germania, ossia uno sviluppo anche commerciale di un'alleanza molto solida con la Cina, una Cina che sappiamo essere più verso la Russia che verso gli Stati Uniti in quelle che sono le tensioni geopolitiche in atto e lo abbiamo visto anche in occasione della cerimonia di apertura dei giochi olimpici, attualmente in corso in Cina. E allora Luca, anche questa carta l'abbiamo annotata, ci mancano i livelli prima di mettere a referto la strategia completa? Se ce li dici passiamo poi a quella successiva come operazione. Sì, qui facciamo un'operazione appunto in rottura di livello, quindi un ingresso a 15.230, uno stop loss di conseguenza poi a 15.260 con un target a 15.130. Ok, che dovrebbe essere anche veloce come operazione qualora venisse ad attivarsi, proprio vedendo come sono mossi i grafici e le quotazioni del DAX negli ultimi giorni. E dicevo, questi sono i livelli a terza strategia, voltiamo pagina e passiamo alla quarta operazione da mettere in gara. Quarta operazione, torniamo long su un settore che a me piace tantissimo, ovvero quello della tecnologia americana, andiamo a fare un bel long, quindi carta verde, sull'azione, l'azienda più grande al mondo, Apple. L'azienda più grande al mondo, Luca, prima di chiederti i livelli e le motivazioni, una domanda, ci si riferisce ad Apple come azienda tecnologica, indubbiamente, soprattutto famosa per quelli che sono i telefonini, piuttosto che i computer, ma non è forse riduttivo ora come ora chiamarla azienda tecnologica o azienda che sviluppa iPhone o PC? Guarda, la forza di Apple sta nell'aver creato un ecosistema incredibilmente performante. Chiunque passa ad Apple, alla fine decide di sposare al 100% quello che è la sua filosofia e parlo da persona che fino a due anni fa aveva Android ed è passato ad avere tutto di Apple. Il bello di questa azienda è che non solo ha una visione di lungo termine estremamente illuminata e capisce sempre in anticipo quali saranno i trend migliori del futuro, ma non esce sul mercato con prodotti mediocri. e questo magari può sembrare un limite nel breve termine quando magari non vengono rispettate qualche piccole scadenze o esce con determinati prodotti dopo altre aziende, ma alla lunga è una strategia che sta pagando perché quando compri Apple sai che hai un prodotto che funziona e soprattutto non hai bisogno delle istruzioni. Elon Musk, mi ricordo che nel suo libro, ha detto che se un prodotto ha bisogno delle istruzioni vuol dire che è rotto, che non funziona. Ecco, con Apple tu prendi in mano il telefonino, l'Apple Watch, l'iPad, qualsiasi altra cosa, e tutto comincia a funzionare assieme senza che tu debba fare niente. Al momento non c'è nessuno con nemmeno la metà del potenziale di Apple. Allora, un'ultimissimissimissima domanda. Non vi è però il rischio che permanga magari indietro sul fronte del metaverso, perché penso ad alcuni suoi competitor metaplatforms, era Facebook che ha cambiato il nome, e la direttrice evidente verso quello sviluppo di business. Microsoft ha comprato Activision, abbiamo avuto poi anche Sonic S&M, a sua volta su un altro produttore di videogiochi, però ecco, grandi player internazionali che puntano su questo. Apple? Secondo me no, non c'è questo rischio, perché molto probabilmente stanno già lavorando nel dietro le quinte, e la strategia di Apple è sempre stata molto diversa rispetto a quella di metaplatform, ricordiamolo sempre che si chiamava Facebook fino all'altro ieri. Ti faccio un esempio. Facebook oggi è già disponibile con il suo visore, quando tu ti colleghi al visore, cosa che io faccio regolarmente, ti accorgi che è ancora l'ecosistema in fase di costruzione, ed è un prodotto ancora non perfetto, e non performante al 100%. Apple quando arriverà con il suo visore, piuttosto che con gli occhiali, con la realtà aumentata, saranno già funzionanti al 100%. Quindi questa qui è una scelta proprio strategica delle due società, personalmente apprezzo molto di più Apple che quando esce ti dà un prodotto che è funzionante al 100% senza bug. E allora andiamo a fare l'appunto sui livelli Luca a questo punto. Certo, allora un punto di ingresso a 171,5 dollari per azione, quindi anche qui andiamo con un ordine limite, uno stop loss a 167 e un target a 182, che vorrebbe dire un ritorno sui massimi storici del titolo. Rimaniamo sempre sul settore tecnologico americano, rimaniamo appunto su un titolo del quale si è parlato già nella fase iniziale della trasmissione, Amazon con una bella carta verde. Anche in questo caso Amazon è veramente un titolo leader del panorama della tecnologia in questo momento. Inutile dire che è stato il protagonista di tutti i lockdown a partire dal marzo 2020 con i suoi numeri che sono incrementati tantissimo proprio grazie al fatto che tutti quanti eravamo in casa. c'è stato appunto un ribasso importante nelle ultime settimane, ma che con i risultati pubblicati di recente dall'azienda è praticamente stato quasi tutto recuperato, quindi anche in questo caso a mio avviso continua ad esserci del potenziale rialzista e anche in questo caso abbiamo un ingresso a 3.100 dollari per azione con uno stop loss a 3.050 e un target price a 3.250, quindi un'operazione comunque di breve termine che vorrebbe vedere tornare i prezzi appunto nel trading range che abbiamo avuto nelle scorse settimane. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading. Grazie a tutti.